Vecchia regina, Castori fa l'esordio e la sua squadra rispegne la luce. Oggettivamente il successore di Azzori ha avuto poco tempo per dare un'anima agli Amaranto. Certo il suo ribaltone sul piano tattico non ha prodotto risultati. Adesio schierato a sinistra, sbaffo responsabilizzato subito dopo la lunga squalifica, Gerardi lasciato inizialmente in panchina. Ma la sostanza è un'altra. La regina non ha un'identità, va a sprazia, amnesie che le costano caro. E così nella notte del Granillo anche un Pescara in crisi salva la panchina di Marino, ne fa tre in dieci minuti e porta a casa un successo prezioso quanto il Platino. La regina si lecca le ferite e magari non guarda la classifica per evitare la tachicardia. Un 3-2 finale maturato dall'autolete di Schiavi, dal Trissabruzzese con Maniero, Politano e l'ex Ragusa e dal bel gol di Gerardi che consegna un messaggio chiaro al nuovo allenatore. Ci sarà molto da lavorare ma soprattutto bisognerà evitare lunghi esperimenti. La quarta sconfitta al Granillo impone una svolta.